Buonasera, premetto che condivido la maggior parte delle iniziative che il sindaco ha fatto, però prendo la parola al balzo e voglio fare una domanda. Io lo sapevo che dovevano arrivare mazzate. No, volevo sapere, intanto le fontane sul lungomare che fine avevano fatto e poi siccome io all'inizio della sua candidatura lei appoggiò il progetto del garage in Corso Cavour, poi invece ho letto ultimamente che pare che sia cambiato l'orientamento, volevo sapere le ultime sue indicazioni, grazie. Per quanto riguarda il garage sotterraneo di Corso Cavour, sono sempre stato contrario, perché è proprio contrario alla filosofia che noi abbiamo applicato nella gestione del traffico qui a Bari. Noi abbiamo sempre ritenuto che fare garage in centro aumentasse il numero di automobili che circolano nel centro cittadino e abbiamo invece adoperato un'altra strategia, quella dei park and ride, che fanno fermare le macchine fuori dal centro e portano le persone verso il centro città a bordo degli autobus con le navette. Naturalmente però il garage di Corso Cavour è già stato aggiudicato e contrattualizzato sei anni fa dall'amministrazione di Cania Brescia e io non ho il potere di sciogliermi da questo contratto senza rischiare di dover pagare una penale, un risarcimento danni all'azienda che ha vinto questo appalto. Naturalmente stiamo cercando di trovare una soluzione che salvaguardi questa nostra convinzione, cioè quella che è bene non fare garage di turnazione, cioè per le macchine che vengono da fuori in centro, in centro bisogna fare solo i garage pertinenziali, cioè quelli che servono per i residenti e se trovassimo un accordo su questo potremmo anche cominciare a valutare l'ipotesi di iniziare i lavori. Rimane il fatto che con l'esperienza durissima che abbiamo fatto per il garage di Piazza Cesare Battisti, dove stiamo lavorando da anni e anni senza ancora avere terminato, non nascondo che sono preoccupatissimo e che considero la scelta di fare garage in centro sbagliata, infatti la mia amministrazione non ne ha mai fatto uno, non ha mai messo in cantiere un progetto del genere. Quanto alle fontane, durante la stagione invernale le fontane vengono sottoposte a manutenzione perché le mareggiate sono molto frequenti, quindi sono pochi periodi di accensione, adesso che torna in buon tempo verranno ricollocate e rimesse in funzione. De Caro infatti in un'altra trasmissione ha proposto il parcheggio di Corso Cavolo, anche in un polemus che feci io, spiegava, lui da tecnico devo dire, che il fatto di realizzare un parcheggio in pieno centro, un Corso Cavolo, era una roba micidiale perché significava un incitamento, ancora di più avvenire in centro con la macchina, per cui lui diceva se riuscissimo a farlo o a largo Adua, basterebbe poco, qualche centinaio di metri distanti. È un problema che va riprogettato completamente e che probabilmente verrebbe considerato un'altra opera pubblica e quindi da rimettere a bando e ripetendo tutta la procedura. Sentiamo chi è al telefono, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera dottor De Lugo, buonasera sindaco. Buonasera. Io volevo far presente solo un problema, in realtà non è una vera e propria domanda, anche perché credo questa non sia la sede per rispondermi. Io abito nella città vecchia, nella stessa zona in cui abita la signora che ha scritto la lettera. Martiradonna. Esatto, la signora Martiradonna. Un altro problema che riguarda noi abitanti nelle zone limitrofe della Cattedrale, Castello Svevo, eccetera, è il via vai di Motorini e gente la sera, soprattutto all'interno di Barivecchia, proprio nella zona della piazza della Cattedrale, dalla bella stagione in poi, quindi da aprile e maggio, diventa impossibile dormire, impossibile. Cioè la domanda alla fine è questa, così concludo, perché non si mette una volante della polizia, una volante dei vigili, una qualche divisa di qualsiasi tipo lì a piantone in modo da far desistere ragazzini più o meno grandi, più o meno scafati, dallo spaccare bottiglie per terra, far saltare all'aria i cosi dell'immondizia, urlare, entrare con la macchina e vi assicuro che se chi non è di Barivecchia non si sa spiegare da dove possano entrare queste macchine, perché è difficile l'accesso con un'automobile, eppure riescono ad entrare, il Sindaco lo sa benissimo. Come lei sa, quello non è un gruppetto qualsiasi, quello è un gruppetto di aspiranti boss, per certi versi. Sì, appunto per questo. Lei ha perfettamente ragione, nel senso che stiamo meditando su questa questione dei motorini, sono le stesse persone che qualche sera fa hanno fatto dannare la Polizia Municipale, che peraltro agisce male quando c'è molta gente, perché il contrasto all'utilizzo dei motorini è pericoloso, perché lei immagina che io una volta ne ho preso uno per un braccio e questo individuo, e devo dire che è stata veramente una fortuna che io mi sia trattenuto, mi ha detto abbassa subito le mani come ti permetti di toccarmi e in effetti riflettendo aveva ragione, perché come lei può immaginare non c'è la possibilità del fermo fisico di una persona in mezzo alla strada, salvo che non si tratti di un vero e proprio arresto, le macchine vengono fermate dalla stradale con la paletta, se non si fermano vengono costrette a fermarsi, ma il fermo fisico di una persona, non di un mezzo, può avvenire solo con un provvedimento di arresto o di identificazione. Quindi non le nascondo che tutta la procedura legata alla gestione di questo gruppetto, che è un gruppetto che purtroppo agisce lì da tempo e che noi non riusciamo a risolvere né con le buone né con le cattive, necessita di un intervento complessivo, da un lato probabilmente sarà il caso di vedere se questi ragazzini cretini, perché sono dei cretini, riescono a crescere un po' e a evitare di rovinarsi la vita, dall'altra parte però occorre anche individuare le modalità con le quali impedirgli, anche con le brutte se fosse necessario, di continuare a sporcare l'immagine di Barivecchia e a disturbare i residenti che davvero subiscono continuamente le loro prepotenze e questo è un fatto che ciclicamente, man mano che qualcuno viene scarcerato, rientra o ricomincia a secondo delle stagioni, ha davvero stancato, per cui non le nascondo che credo che il suo intervento sia davvero opportuno e lo condivido totalmente. Mi sembra che ci sia un'altra telefonata, pronto? Sì? Sì pronto, buonasera. Buonasera, volevo parlare con il nostro amato sindaco, lui mi conosce bene, faccio anche nome, mi chiamo Pasquale Zasane, lei lo sa di dove sei? Qui, Pasquale, di San Pio. Sì, San Pio, a me interessa soltanto quel pezzetto di strada che collega San Pio con Torricelli, dove lei ha fatto l'ultimo intervento, si ricorda? Sì. Per un semplice motivo, quell'autobus che fa quel giro che rischia ogni tanto di fare un incidente, perché per fare quelle curve non si può vedere di sistemare quel pezzetto di strada che collega Torricelli a San Pio in modo che il bus, anzi, ci guadagna anche come gasolio. Come gasolio, va bene Pasquale. Ti ringrazio. L'abbiamo aperta da poco, quindi probabilmente non hanno ancora messo a regime l'itinerario migliore. È molto importante. Fai bene a ricordarmelo. Ti ringrazio. Ciao. E' inutile dire che non Armando mi chiama in continuazione, è molto contento che l'amministrazione comunale abbia superato il patto di stabilità e che quindi ci siano le condizioni per poter attuare la graduatoria per quei pochi che sono rimasti, quei 12, 13 persone. Qui c'è una lettera, non so se è a partire nella stessa storia, tu sei molto più esperto di me. Salve Dottor Emiliano, sono un ragazzo di 22 anni di Bari, nel mese di luglio 2009 effettuai la graduatoria e tu non si sa più niente, per caso sa dirmi come andrà a finire tutto questo, perché sinceramente… No, questa è una delle società, è sicuramente la multiservizia o l'amio. Grazie. No, è la multiservizia credo.